Aspetta Vediamo se siamo in live Siamo in live? Laggo? No, devo sentire Ok Vai Cri, metti pronto Ok 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 Il chat ho scritto io Io ti dico se arrivano messaggi Ok Ok Che si fa? Non lo so, scegliete Però non c'è nessuno Sì Vai vai Ehm, vai metti skyfall 2 Eh, lo devi fare tu eh E tu hai il capo Ehm Aspetta un attimo Ah, ecco Vediamo se c'è Yes Alessio, bello Ciao Alessio Ciao Alessio Ma tu quindi hai finito le missioni, giusto? Sì, sì, l'ho finito Sì Sì In realtà trampatore Pazzata è già uscita Sì 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 Prima Non c'erano 12 settimane Quante ce ne erano prima? Dieci Ma dieci Dieci penso Oh che squadra andiamo qui? Team 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 4 che l'altra volta ci ha portato bene Ok No, no, fermo, 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 fermo 3 2 1 Via Eh, boh, ok Easy Controlla se c'è qualcuno che vuole fare due video Team 4 eh Ok Team 4, team 4, team 4, aspetta, 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 vai, 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 vai Sì È arrivato? Ok, pure io Pure io, pure io Easy 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 Vai Eh, aspetta, aspetta 3 2 3 2 1 Via 3 2 1 Via Ok Easy 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 2 2 3 2 3 4 Guarda questo tizio poraccio da solo Ah, lo spameva questo qua Ah no, te l'hai venuto qua Ah, ecco, ecco, ecco Vai, vai, boxati, vai, vai Qua accanto ho paura Eh, si mi ha bloccato E qua, ve qua Vai, è pronto Da qui si spandavano come una morte Eh, oh, oh, oh Da tutti quanti, da tutti e due lati No, no Aspetta, fermi, fermi, fermi Aspetta Vai indietro, vai indietro, vai indietro Ah, sì, dai, da l'altro lato Oh, quanta jet Aspetta, attento, attento, attento Vieni, vieni, vieni Tetto Eh, eh, pulito Ok, morto Cura, 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 cura Ah, no, dietro, 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 dietro Faa Eeeh, sed Eh, sed per noi, sed per noi Sed per noi Vabbè, forse abbiamo sbagliato a pushar Sed per noi Che fenne donato di Primi fai moderatorio su YouTube Ma in realtà Sì, sì, sì Scrivi, scrivi in chat Eh, bravo Eh Ora siamo moderatori Ok Udile Questi editing Che sta facendo questo Ma che ne so Oh Ehi Hanno preteso troppo Bravi 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 Sono bravissimi questi qua E infatti rip Rip Vai vai Spamma, spamma LR Spamma, spamma Spamma Comunque non mi sembra gente baratta Ecco Eh, ecco Gris Il video andò su online Sì sì, lo so, lo so Ma da... video mi piace me gusti me gusti o è pronto poi leggi i commenti l'ho box di parola e però me l'ha un po ma non fa niente a questi qua aspetta levate levate chiudi bravo aspetta io costruisco il mattino ecco lì ecco lì ecco lì ecco lì qua davanti da me te devi che faccio moriamo adottie ne di lingue fatti inietro fatti indietro fatti indietro fatti indietro potete mettere la scala vai vai sede spavola la scala ottimo manifesto cd un momento no no sto morendo il uomo si chiama raiola per un cilino davanti e dietro sony sanno dove sei e mi hanno esatto fuck man vai continua mamma che e la madonna vai spam va bene va bene che ci possiamo fare che ci possiamo fare c'è strada via che ci possiamo fare comunque a me hanno forciato che attivirsi in due e una davanti stanno ti chiede stanno tu chiede ma se qualcuno vuole ma i modellatori cosa possono fare i modellatori cosa possono fare ma il tese ruote è un po' cocarecchia ma tanto che non possono caricare i miei genitori box fight Ma non si può niente Ma non è che è Ah ok Questo non si può più sopra Ok Vabbè questo è perso Ma che cazzo Ok Ok Vabbè è anche vero che non abbiamo ancora giocato Io si Io no Cosa ma facciamo un po' di zone Ma dopo facciamo anche un po' di pubblica Sì finchè non c'è gente che vuole giocare con noi F-box fight sì Comunque quel 132 edge è abbastanza Oh dobbiamo venire Oh my god No mi spero eh Vai 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 Costruisci il mattone Ok Vai vai metti qua pure Questi spavano eh tanto Quindi inizio a sparare da qua E' attento pure da questo Eh 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 io 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 sto copri a questo lato E quando si stanno sparando Ecco Chiudi 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 Vai vai ancora di quella di corretto Ehiiii Hai un altro scillone Grazie Oddio Ottimo ok Ok Intanto Ok vai 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 box di Vieni qua lato vieni qua lato Vieni qua lato vieni qua lato Ok attento ce n'è uno sopra No c'è uno da me Pur da me Ok sono passato da te Vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua L'ho sta sta roba Oh porco Cinque massaggi Hanno scritto un altro messaggio Ok Eh 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 Vieni qua lato Dato per andare a leggere vieni qua lato E' qui al lato Siamo qua Ah un tigre da me Ok C'è uno c'è uno Eh sì però io devo puntare perché è un attimo Lato Arda infame Quattro infame Cazzo fa Ma che è questo qua Oh ma che è Aspetta 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 prendi dietro Siete due di uno Poggers Due di uno sono già morto Oh Comunque vada E' un buon risultato 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 Attento ad essere Attento ad essere Oh Ah Quello l'ha fatto 220 Ah beh terzi Siamo comunque terzi eh Terzi Siamo più kill dei secondi Però non abbiamo fatto ancora Allora comunque Quinto messaggio Nessuno Non c'è ancora nessuno Però rilassa Vai vai rifacciamo Comunque Oh qua non ci sono più Non ci sono più questi accanto Ottimo Buono 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 Allora questi qua Metti la scala solo a questi qua Ma io farei anche una roba del genere Eh si vada Facciamo pure così Spariamo ecco Hai visto quello là Sì 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 Oh mi hanno serato Ti copro io Tieni un altro scildone Ehi tizzi tizzi Eccoli Eccoli Faccio io faccio io Te apri dietro Apri dietro Apri dietro Apri dietro Vai 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 Go 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 Let's go let's go Let's go Stanno da me Oh fuck Allora uno per terra Una terra Ok bravo Non ce la fai Non ce la fai Non ce la fai Bravo Vai 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 No No Vieni 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 Eccolo Stai su Ah Poggers Arco schifo Vabbè dai Speccato Vabbè questa La tua prima La tua prima box Fai che fai del giorno Quindi ci sta Vabbè 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 Tite light Ma te stai guardando la live No Adesso 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 Lo vedo Sì Adesso Adesso Andando Andando Ok 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 Facciamo una cosa Allunghiamoci qua Estendiamo 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 Vai Tube I Non Così Si aspetta, vai 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 sotto, sotto, sotto spezza dove ricaricare oh qua 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 intendo sciolto vai 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 o ok vai vai finisci, finisci no me la... dai dai finisci il compagno è morto mi sa eh ma stò laggiando un po' nooo oh what the fuck ok ma tu dove stai vai 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 stanno qua sta qua sta qua si si oh ma questo ma quanta gente c'è che cazzo si basta abbiamo fatto 8 kg ma non ho fatto nessuno vuole fare box fight dai c'è roba che dobbiamo iniziare forse questa il mio frattempo per essere nel posto un po' di rinunziamo lato tutti i miei tutti i miei tutti i miei dietro anche non c'è nessuno qua dietro so per dirti ah non c'è nessuno la no non è nessuno vai vai qua davanti solo la spama qua davanti vai 29 29 bianco morto terra dici unisci breve tento si sparano si oh wow wow calma 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 29 oh c'è un tizio da me oddio is is io sono morto c'è valerio lo invitiamo lo invitiamo eh ma ben tre eh aspetta invitalo tu oh 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 non lo so eh guarda basta ma fate schifo non lo so è il valerio party perché ok da 2v2 diventa 3v3 eh no io non posso vai fai te come faccio a scrivere 3v3 ciao marco ritorna come faccio a mettere ricambiare il coso eh valerio calma prima di tutto se vuoi entrare metti un like alla live spero che l'hai già fatto gambionati il ha eh sto invitando ok allora mi dici come sei fa da youtube eh dai come faccio a cambiare un attimo sul telefono faccio posso farlo sul telefono vero sì sì ma guarda io lo sto facendo da sotto ah lo stai a te sì sì fai vai vai metti 3v3 box fai ma Marco è un tuo amico ok boh cosa vai ma le invitano nel party questo non è buono niente non è buono 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 ok rinvita 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 Valerio Valerio tra virgolette Pietro Alex mettete like eh si basta dice Valerio che è una pezza si vai rinvita no solo Valerio perché loro sono andati a casa di Valerio ah ho credo ma al definire il video allora allora amici a me sto andando a me sto andando a me sto andando a me sto e sto Grazie a tutti Ma che cosa Sì certo Mettetevi pure offline Boh vabbè Ah ma certo Perché loro stanno Stanno a casa di Pietro Stanno utilizzando il telefonino Oh ma decide Chi devo invitare Nessuno Vai vai Facciamo coppie Vuoi fare coppie o creative? Scegli Voglio creative Perché dovevo vincerla una Ok 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 Ma una volta in quarantena Una volta in quarantena Oh ma che cosa Ok Solo in due Potevano andare Fuori E loro sono in tre Ma te sei entrata Una creative What? Eh aspetta che Ma sta rientrando Eeeh Attenzione Ale barbuta Ha scritto Una parolaccia Nascondiamo Non si fa Non si fa Non si fa Non si fa Ok Say like Ma dai Cosa Vabbè L'ho nascosto Vero L'ho nascosto Vero Solo te lo puoi vedere Vero E io Sì Sì Lo puoi vedere I moderatori In generale Mo stanno Ritornare Le zanzate E danno Un bot Ma Eeeh Bre Eh Ma Perché mi dice Che abbiamo Stato GTI Mac Aspetta Aspetta Adesso Lo start Vieni Vieni Eeeh Eeeh Ok 3 2 1 Via Ritornare 3 2 1 Via Eeeh Andiamo Mi sono morito dentro Cosa E mi sei morto Degli occhi Stavo in piedi No E ti ho visto morire Non ti sa perché Stavolta Scegliamo Un altro team Scegliamo Il team Uno 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 Ok Possibile Non c'è nessuno Da quanto tempo Non si vedevano Le galaxy Ah Bella Oh Aspetta Ho un ballo Della Iconic Ah ma Da quanto Non si vedono Davvero Le galaxy Team 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 Potenzialmente Un buono star Ragazzi Staccato a noi Pronto A box Di Questi 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 La Che Ci Spamano Qua Spamano Questi Aspetta 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 Vai Come la morte Ti sono Spra E Corati Oh Si sta A fare Scindone Chiudi 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 Qua sotto Qua sotto Qua sotto Vai Bella Oh Tanto Vattene 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 Oh One shot Uno A terra Dietro Oh Non Dietro Sempre Davanti Ma Oh Cura 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 Ok Dimmi Se ci sta Dimmi Se te Spaccano Spaccano La madonna Con l'arpione Con l'arpione Eh che ci vuole fa FN Aspetta FN S Team Vogliono fare 3v3 Eh però Aspetta Dobbiamo Invitare Ok Il fatto è che 3v3 Il fatto è che adesso Non c'è più il nostro Gosto Quindi al massimo Si può fare 2v2 Ok Eh si Aspetta Un attimo Vediamo se c'è qualcuno Il fatto è che Sono inglesi eh Sono italiani Ah è vero Eh ne so forti Ok 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 Il problema è che adesso Dobbiamo Allora Fatti una cosa Finiamo questo game E poi Possiamo Faitare Fate che noi siamo in 2 Che il terzo Alla fine ci ha abbandonato Eh chissà perché Eh ci sta via Per il culo Detto No 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 Non mi sparava così Per lo scildone Le leva Tieni la build Tu tieni la build Certo vetti Bravo Oh tato Sotto Mamma mia Oh 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 Eh si E' immortale E' immortale E' immortale E' immortale Ma aspettiamo un attimo Ma aspettiamo un attimo Puoi chiamare un attimo Pietro Se vogliono giocare con noi Eh se vogliono Vai Se vogliono giocare con noi Perché Siamo in live Ma hai modificato il titolo Ma hai modificato il titolo Ma si chiama 3v3 box fight Eh allora fai 2v2 Vai vai fai 2v2 Ok Mamma mia Bravo 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 Ma è bellissimo Senti quello di livello 200 Guarda il suo fuoco E' bellissimo Oh yeah E' un po' Guardate Eeeh Quanto ha spammato Che è bello quel fuoco Il nostro è un piccolo fuoco Ma tu non sai neanche se ce l'hai Però per te Eh C'è solo il colore Arancione Che sa il 106 Che è bello Mamma mia, where are you? Dovamo vincere Diamine Vai vai Prendiamo sempre di mira questi Aspetta 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 che li metto qua Ah questi qua te lo dico sono incattivitissimi Sì sì sì, oh oh qui 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 proprio Attento a te, attento a te E te resta così E gli andiamo addosso C'è via sotto, metti una piramide Ma Ok vai, sali 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 No, tranquilo Ok Ah, poi vogliamo fare una cosa fantastica Ah, vai 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 Is Vai 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 brutto 3 Dove 1 Via Is Oh, eccoli, no 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 attenzione hai preso la piramide qua sotto vai vai qua sotto attento no 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 chiedi attento qua sopra qua sopra buttare il filino al volo vai ok fammi salire mamma mia sorry man yes va 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 ahah che brutta sì gozzi oh ma poi è stato variato finisci curami finisci curami bravo bravo ora sicura 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 nessuno ha visto niente io mi vai vai di fare il pesce ok chiunce tu chiedi un altro pesce grazie ok ci sono vai 3, 2, 3 4, 3, 2, 3 Vai, vai, vai Potiamo Qua davanti Double barret 3, 2, 1 Oh, no, 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 no Aspetta, aspetta Ok, ripeto il muro Oh, tetto, aspetta Fammi ricaricare Attenzione, accanto Attenzione Oh, ti dico io quando aprirmi e ma è proprio che non è mio ok l'ho preso pronto non aspetta vai chiudi e andiamocene vai vai vai, oh ziii ma che trovo ah vabbè ma... io booo una terra vai 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 che fuori succedendo nooo ma stavano a fa teaming l'hai visto? si che l'ho visto che schifo secondi, secondi, secondi sempre secondi aspetta ma... ma come si fa? si dai ha addirittura a fare... in fase ma siamo terzi siamo terzi aspetta c'è ancora possibilità si no ma la possibilità c'è 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 e ce n'è no dai ma come potete supprimi il like E' un game fantastico, questo era un game fantastico E vabbè, sai com'è la vita Cioè, biocatto è qua, davanti sono aggressivi Oh, aspetta, chiudi, 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 meglio chiudere Vai, vai Chiudi, chiudi, oh, qua, qua Ho la vostra scala, vai, vai, attento La sua scala e fai una piramide Davanti, eh No, 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 sparano, sparate, te resisti Ok Ok Vai, vai, vai Eccolo, ho preso il muro Oh, porca miseria Dietro, dietro No, oddio, mi sto percosendo Vai, 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 mi sto percosendo Detto Se sta andando Ah, ah, aiuto Detto, 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 detto Dimmi tutto se mi devo fermare, eh Ma basta, basta Ma, va bene, va bene, ma dai Ma il suo muro, ma quel muro, quando, quant'era quello Non c'è nessuno Ma c'è nessuno Ma oddio, l'hai visto quello Ma l'hai visto quello Era stata una È un Beyblade 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 È modificato, hai messo 2v2 box fight Ok, sì Ok 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 mi dispiace per questo mamma mia ti immagino se lo prende in etch ma guarda io sono basito no no dai dobbiamo vincere questo basito basito su avevano i figli dai ho qua a tetto c'è gente questo ecco ma non ci so più è un abbandonato vai qua qua davanti vai aspetta vai grazie per il terreno qui sotto vai 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 che è un shotissimo quanta gente c'è no questa è una fallenza azzi dai se quello 99 ok toglierete oh vai vai oh ma è un shotissimo sto tizio peggio di mamma mia quanto sei forte mi sento gioco stazione non ci interrompete non ci interrompete eccolo fate schifo una tratta di vita questo tizio mi uccide mamma mia a terra bravissimo ciao e fa 2 1 e bravo 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 fatti il pesciolino e ok vai c'è gente bravo eccolo eccolo davanti a te in quella box davanti a te ok vai vai è andato nella box accanto ok ma io ho ancora fatto per te che non ho fatto ecco attento attento il mio vai easy 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 tato build bravo sì ma c'è gente che tipo fa alleanza in quanti 3.000 tetto eccolo eccoli qua sopra vai su vai su vai su vai su c'è aspetta 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 tetto ecco vai 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 bravo così attento attento che ti possono vai 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 grande uuuu let's go decimo me 2v2 bella ok ok venite ditemi il vostro id id ditemi il vostro id quale vai vado 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 questi qua davanti vado 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 davanti e sono in 800 ok vai 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 oh oh eccolo da me da me da me vado non possibile ok vado 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 io controllo i commenti se c'è qualcuno che vuole fare 2v2 dico niz eh si infatti eh ma gah dai forza diteci il vostro id dico niz dico niz si ok aspetta vai il problema è che a me non mi fa aggiungere a te cosa ha il fatto da aggiungere? no non mi fa aggiungere gli amici ma si vai prova cioè ci devono dire gli d quindi se non ci dicono non mi sa che se ne sono andati da live ok e vabbè noi intanto facciamo 1v1 vediamo se la gente vuole venire ok o vado ok vado 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 ok sul suo canale c'è un video a me io non posso vedere non posso vedere il suo canale è di fornit il coso vero 1 vivono facciamo intanto e si andremo qua 2 risorti sono sicuro che prima o poi arriverà un altro tizio e adesso vai what the fuck ma che vuoi ok dove sei ah sei là ah eccolo dai scusa oh c'è un lama what the fuck ci sono anche delle cesti in giro ma no ma che vabbè no sono caduto si è caduto come è stato il cadere no 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 ok oh ma basta lo finirai prima o poi no eh l'ho finito 47 muori a costa di suicidarti a costa di suicidarti ma se no facciamo a giorni morti con altri dici sono sono questa una zona fai e facciamo l'ultimo round ok where are you my friend I don't know no 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 basta con i tuoi l'amore c'è 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 e sto utilizzando per capire dove sei la parma ecco lui che sta volando i thought you'd get this to me niente torna al centro oh 2v2 pro max va bene come ti chiami? fai live creative ci devi mandare il tweet di farlo boh è scomparso ecco vai vai ora ti apriamo mungo allora no eeeeh com'era com'era tiflo 14 tiflo tiflo non l'ho trovato come no no allora aspetta scrivite il nostro id vabbè quello che vedete là tristian ayrton 7 oppure me eeeh vi scrivo come scrive oh l'ho trovato l'ho trovato io ho mandato la richiesta vai bravo eccolo me l'ho accettato vai 5 round o quanti? boh 10 10 round 10 round a casa vai ti invito bre sta entrando da loro ok? no devo entrare te ma chissà boh vabbè sono entrando da loro ma perchè vabbè entra da te entra te da me vabbè eh ma è rotissima erottissima invidola eh ma il fatto è che? il fatto è che? non cosa non? aspetta non mi rompo ok ok eeeh bre metti il party pubblico hm perchè il party pubblico? vabbè ok eeeh sei del capo? sei del capo? eeeh ah eh si ah intendi ah il party questo il party il party ah ok 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 vai vai fatto ok vai raga eeeh eeeh allora dove? eeeh eeeh mi dovete invitare però eeeh mi dovete invitare però ti invito eeeh ti invito eeeh 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 no nooo siamo sparsi a caso ma siete un duo mate ma siete un duo mate siete uno duo mate no no io ce n'ho già un altro eeeh 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 ma volete fare wager non lo so scegliete voi eeeh 10 euro in palio boh fate voi 5 euro ma permetti puoi giocare anche l'altro video 5 euro 5 euro 5 euro ma permetti puoi giocare anche ! eeeh io ti invito ma non so se vuoi giocare nel mio studio ehm che è divertimento vi facciamo a caso no non ci vuole nemmeno infatti ma te discepcio parte c'è normale metti quelle che c'è a quattro non la squadra vabbè questo è per cazzeggiare ma noi facciamo per cazzeggiare te stanno dietro ok una terra finisce ok ok è finito questo ok eccoli ah so che non ha fatto vita ok Quella a gara è bella, vero? Ok Oh Ok Ok Qui ho smirato un botto E tra l'altro, che bello Oh 70 110 110 Per 20 di vita DG Bravo DG per loro Aspetta un attimo che sto laggando Vai, vai, vai Code bug Attento Non andava a pusha subito Stato blu Bravo Sì, sì, attento, 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 attento Calma Eccolo, dammi uno Ah, attento Attenzione Aspetta 10 A terra Eccolo Bravo 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 A terra Vai, 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 vai Spara Tanto, tanto Non farti subito colpi e dietro dietro io non da dietro no 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 andavo subito a push up in poi e poi e poi chiudi mai avvia via via no 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 attacco a tutto altro lato 8 dietro l'avamo una terra è devastato sto dici no leva tigri gg per loro vabbè non fa niente con calma non pusha subito tetto 3 1 vai 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 verso di là verso di là tetto d'altra parte io tengo io tengo io bravo si io stavanzando ok spara da lontano tetto da ok si io tengo la build qua che cosa fai ok tetto 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 bobo no 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 li spacca non li spacca non li spacca 150 ok vai 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 oh mamma mia c'è un tizio da me che mi vuole oh or con pure riesce fatto il volo è tu è tu eh la vedo brutto spada dietro 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 eh vabbè gg 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 c'è uno da me c'è uno da me vabbè vabbè schermo 180 170 non lo so io vi faccio 40 in testa vabbè vabbè octopus frank facciamo due di due eeeh aspetta perché aspetta un attimo che finiamo questo tanto con loro sono 10 round stiamo a e quindi ok c'è più 10 vai vai ok c'era 1 55 arriva da te l'ho visto oh vai pg da me morto vai gg aspetta quanto siamo 3 a 3 ah gg combattuta combattuta si ah questa è stata fatta da buca sta marta non so se la quarta ora 88 vai oh da me mi ha bussato oh da me ok uno morto sta arrivando l'altro sta arrivando l'altro bravo no gg 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 per loro credo che mi stavo alcune volte laggando non so per te no vabbè non ci credo sta ciò dobbiamo pareggiare eh dobbiamo pareggiare eh dobbiamo riuscire anche magari a passare un'altra ahahah ahahah e vabbè tanto da te arrivano tutti da te ok ok 141 uno morto da me vai vai guarda con one shot ok morto bravo gg gg Gabriel zucchiati 2v2 vado aspettate un altro guarda guarda attento manca questo round un altro infatti vede non pucia subito oh e da dietro si oh eccoli oh oh si 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 ok ok uno morto oh gg eh vabbè gg allora non possiamo più vincere adesso eh possiamo tanto pareggiare ahahah lo so vediamo un po' che bisogna fare perchè qua non voglio perdere vabbè tanto hanno detto loro che non scommettono niente ah no vabbè quello si cioè vabbè verità nella live c'ha già scritto che non si scommettono oh tezzo mamma mia oh no aspetta 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 no 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 vinta una terra oh 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 no no cento vai 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 puxà morto bravo va bene Meaning well gg aspetta me dg raga Che c'era va Eh beh ha finito Si arriva a 10 Ah si arriva a 10 Ah ok non a round 10 Ok allora scusate Vai rimetti c'è stato Eh scusateci Un attimo Allora Ah ma si arriva a 10 Vabbè Ok Io ho capito Round 10 Final round 10 E Octopus Frank Siamo a 10 Adesso stiamo a 6 a 5 Quindi Non dovrebbe durare troppo Eh 10 minuti 10 minuti Cioè se volete aspettare Dipende No non mi corre Non mi corre Stato Oh quanta gente No 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 Cento blu Ok una terra E un'altra dissi Vai Cento Ok Bravo Uccidi Uccidi il compagno Oh aspetta Bravo GG per lui Ah comunque 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 Dov'è Stai dietro Eh sta a destra Oh Non ci credo Non ci credo È suo Il muro No l'ha missato GG Ok Bravo Ok Good game Good game Finitiamo 6 a 6 6 a 6 Dimmi che mi corre Non mi corre Eh Mamma mia Come non ti corre 100 Eh questo qua è tolto 100 blu Oh Ok uno morto Eh vabbè GG Eh come sistemiamo Il bug Eh aspetta Mi devi difendere Un attimo Ok Eh aspetta Ok Aspetta Eh aspetta Un attimo Boh vabbè Aspetta Eh come ti faccio Difendere Eh come faccio Difendere Un attimo Ok Oh Ok 66 Eh vabbè È difficile Cioè giocare Due Giocare Due a uno È difficilissimo Una terra comunque Vai bravo Vai Ce la puoi fa Attenuto Attenuto Vai Bravo Attenuto Vai finiscilo Fate il pesciolino Attenuto Vai bravo 30 30 Attenuto Mamma mia Bravo No Mamma mia Attenuto No 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 Fai Bravo Ok Bravo Bravissimo Bravo Mi fa Oh oh Rifagli Ciò puoi fa Vai Si sta a fare lo scildino Vai 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 Eh vabbè GG GG Fatti lo scildino Fatti lo scildino Bravo Attenuto 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 Oh Devi fa 200 Vai Attenuto Attenuto No Fatti lo scildino Bravo Attenuto Ok Vai 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 Ok E fatti una box Fatti una box Cri Attento sopra Attento sopra Potrebbe essere su Ok No Vabbè GG Ah intanto Gabriele Zucchiatti Ci ha dato il suo Di Di Ok Ragazzi Mettete like Mi pare di aver letto E poi non lo so Dopo Dopo Il Leg Difficile Tento blu Sì Vai vai Ce l'ho Guardate Vai One shot Da me A terra Uno Da me Morti Bravo Ganni GG Scusate se vi finiamo Ma se vi finiamo È soltanto perché Ci serve vita Quindi Magari Dobbiamo fatere subito Contro quell'altro Ok Allora Spano a meno due Quindi Attentissimi Oh Addirittura Fai attento Attento Che ce n'è un altro Cento uno Vai 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 Una terra Io tolto Cento blu Oh Oh One shot No No Non ci credo One shot Era GG GG Per loro Cioè adesso Dovremmo fare Rimontoni Per dire Quest'anno a meno uno Noi a meno tre Che bello fare Dele box fight Per passatempo Oh Da me Da me Ce n'è uno Aspetta Non andare subito 20 blu 20 blu 20 blu Eh Oh GG Per loro Bravi GG Per loro GG 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 Bravi ragazzi Bella Se volete ci sfidiamo Wager Eh si Però Adesso Vabbè Comunque adesso C'è un altro Vabbè comunque E' bravi Bravi anche voi Ma Volete fare infatti Una PSN card Da 10 euro Giorghe No Adesso Se ci contattate Su Instagram Ci riuscite a contattare Sistema Un certo Felizzo Un giorno Eeeh C'è Sì Ok Ok Noi andiamo A giocare con Power Video Non serve Ok Ironicamente Giocando Sì Ok Ok Ciao Grazie ragazzi Ciao Anche a voi 10 Bene Eeeh I prossimi Sono Il prossimo In ordine Octopus Frank Aspetta un attimo Octopus Sprank Eh Octopus Sprank Eeeh Se Ok 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 Tacati Ragazzi Io non ho scommettito a niente Queste box fight Sono per passatempo Lascia il gruppo Queste box fight Sono per passatempo Giusto per Allora Quindi Eeeh Dobbiamo trovare Francesco 23 17 Allora Ok Eeeh Francesco Aspetta ma io non capisco Ah ok Non capisco se Eeeh Ok Ok 23 17 Mettete like Scrivetevi pure Ok Eeeh Vieni Vieni qua Vieni Vieni da me Vieni da me Ok Me l'ha inviata Cioè me l'ha accettata Scusa E invitalo Sì adesso Lo invito Eccolo Francesco 23 17 Ah E' da Computer Ah Ok Allora già Partiamo male Ok Partiamo male Vai in c'è gioco Ciao Posso invitarmi amico? Sì 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 Puoi invitarlo ovvio Sì sì invita Invita Eccolo Ciao Ciao Buono Allora facciamo sempre Il primo che arriva a 10 win Va bene Non lo so Eci Volete scegliere voi la mappa No no Ok Allora metto la gricks A caso Ma voi ci mutate Voi andate da play O Eeeh Mettiamo Chat party Sì Sentiamo Ok 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 Buona fortuna Eeeh Cambiamo noi squadra Oh Aspetta un attimo Che Dai Ok Comunque Devo dirlo Sto andando bello A parte che si E che ci vuoi trovare con gente che non conosci Capisci che livello sei Ok vai vai Metto la mappa E che rago Dove sta la Vix? Eccola qua Guarda qual sta Lo facciamo pronto? 3 2 1 Oh bro Guarda Il telefono Il telefono cosa? Whatsapp Ah ok Vai entra entra Andiamo in squadra 2 Eh pure a me Mi hai preso un infarto Sì sì Ma siamo in squadra 2? Sì sì siamo in squadra 2 Ok vai Ma aspetta Hai detto 10 round o 10 Chi vince Chi vince Ah ok Eh eh Facciamo una figuraccia Eeeh Già da qua si vede Attento attento Hai messo tutti e due da computer Vabbè sì Ecco Fede attento Proteggi da quel lato Ok Porco Sì sì a me Ma l'hanno fatto esplode Devo dire Lo so Ho visto Non ho capito niente Io ho solo sparato Sì sì Ho visto Vai 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 Comunque da quel che ho visto Sono porti Ah io sto Comunque non sono scar Dietro dietro Vado Eh sì sì Ho fatto iniziare il muro Oh Oh Azzì 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 Insomma 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 Azzì Azzì Oh 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 Ma che è Sì Cosa Ok No GG Per loro Ma 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 Dai Dai Giusto un po' Ci stanno Sfondando Vai vai La giuga Manino Vai 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 Attento Attento Oh Ma perché devo prenderla a me Dai da dietro Dai dietro Dai dietro Dai dietro Dai dietro Oh 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 Unexpected Storks Quel 200 Che mi ha salvato Che mi ha salvato Vai 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 100 Vai 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 Eeeh Insomma Oh Non muore Oh Ma 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 che c'è Un altro vivo Ah Oh Si dovevo mettere il turbante per vincere Il turbante Ok 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 Oh copri Copri Che stanno là Ma arrivano Copri da quella parte Aspettate un attimo Se volete fare 2v2 Teniamo questa Apri sto coso Mamma mia Una terra Insomma si Aspetta no no Aspetta che me ne faccio A Gigi mi corro Sta da te vero? No Ha andato qua Cioè non sta qua proprio qua Bravo Bravo Grazie Tra unexpected stones Deve arrivare solo a 10 Si si arriva a 10 win Quindi state calmi Si viagil Quello che è Aspetta un attimo Ciao Tejbi Dietro c'è Oh ma non mi modifica Chiamate la croce rossa Chiamate la croce rossa Croce rossa Ma ci sono entrati così aggressivi Intanto se volete fare 2v2 Scrivete l'ID La fra bizio Fabrizio vecchio Oh da Agri 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 Oh Sì What the fuck Eh 40 Ok Sorry Scusami Dammi il tuo pesciolino Oh Beh però in qualche modo Stiamo vincendo Io non sto parlando Io non sto parlando nulla Mi sto parlando Esplodere Mi ha disetto tipo 3 yarda Mi ha dato una pompata di quelle Eh ragazzi Se vedi la situazione in cui sto io Bella zi Vabbè sei morto Eh vabbè Ok 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 Tanto per caso Tanto per caso Hanno scritto l'ID Adesso vado a vedere un attimo Oh attento Bella Oh 141 Questo qua Io ho tolto 130 Ok Uno morto Però si è curato Quindi è come se avessi tolto Tanto No No Ha passato quel colpo Ma qui Hai visto Mi ha fatto 200 Mi ha devastato Ma mi saluto quel colpo È lì È lì O dove diventa morto Niente male Vabbè capite che Per me la jet che troviamo So forte Sento Oh da dietro Da dietro Da dietro Ok Da dietro Anzi faccio Eruzione di campo Faccio Eruzione di campo E insomma E insomma E insomma Sì 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 State tranquilli Aspettate un attimo Sì 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 Tanto Ok Vai 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 more shot e io ti stavo presto, gli stai alterando stai a faidi gg per questo applausi a quanto si arriva? si arriva a 10 10 vittorie stanno a 7 probabilmente vinceranno loro si di sicuro bravo scusa amico la battaglia di Vistoro ma niente male 7 a 6 poi scegliete voi se volete fare i 10 round 10 vittorie scusate voi per noi è uguale magari non 872 round si infatti oh scusa amico ok ragazzi ragazzi ditemi che sto per morire perché 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 oh oddio no frate scusa No, frate, no, frate, scusa, scusa, scusa No, frate La battaglia, l'hai visto? Eh, lo so, Kree, che cosa, lo so, lo so Ho letto Ho letto, ho letto Allora, intanto ce la ho mandato a prenditi Mamma mia Scusa, orco schifo Scusa, amico Oh, ma che è Grazie per il pesce Crime, sei, sei stato utile Oh Oh Allora, 20 di vita Quanti quelli stanno? A 9 Allora, dopo toccam Se questi vincono tutti GG Allora, dopo 8 plus friends, c'è Fabrizio Vecchio Poi c'è Viagli Ok, oh Oh, ma che è? Attento Trenta blu Eh Ma stai sotto? Oh Oh, 130 E 130 170 Ok Va bene Sono, sono morto Oh No GG GG Vai Mettiti Gioco GG Avete visto quanto siamo scarsi? No Se l'è forte No, io botto Prima Voi siete stati forti Bravi Bene Prima Facciamo Nel suo ultimo round Giusto così A casa e poi Ok A me mi scappa 200 maglie Ma Sì Non so come facevi Mi pigliavi Mi facevi 200 a casa No, era l'altro Ah, era l'altro Ok No, ma S'ho smirato A me che mi scappano 200 Bene Ah, bene Ragazzi Noi Dobbiamo Andare Perché c'è Altra gente Grazie Grazie raga Alla prossima Ciao Buona Ciao 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 Ok Ok Torna Torna al centro Torna al centro Eh no Io ho qui Quinta la creativa Quinta la creativa No, no No Sta tranquillo Sta tranquillo non ci sono non ci sono così possiamo aggiungere gli altri eh si fai te vai vai io sono in creativa intanto Fabrizio Vecchio Fabrizio Vecchio ok e poi c'è Viaglio e poi no aspetta però si 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 tocca a voi Fabrizio Vecchio Atlantis Tebgy aspetta un attimo prima inizia con ah ok Atlantis Tebgy Tebgy no Tebgy Tebgy ok la Krix è già pronta quindi viaggio la Duce è il prossimo tranquillo oppure sono insieme questa è una bella domanda Atlantis Tebgy l'ho invitato e insieme a lui ci dovrebbe stare anche Fabrizio Vecchio Atlantis Tebgy Atlantis Tebgy e ancora non mi rivedai sposta ok si Fabrizio Vecchio e Tebgy sono insieme ok Fabrizio Vecchio quando entrate invitate l'altro ma te sei nel gruppo ok nel dubbio qui te l'ha qui te l'ha qui te l'ha created ok e si sono insieme ok sono insieme ok ok allora Tebgy invita Fabrizio Vecchio e poi andiamo ok ok ecco eeeh Ipergabbo eeeh prima c'è Viagl poi Ducati metti chat metti chat nel gioco ok bello eeeh ok quanti round volete fare 10 10 ok 10 10 round 10 round ok 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 eeeh cambiamo noi squadra eeeh vieni chat e parte ok ah e se ci state guardando facciamo la click eh si lo so ipergabbo stiamo a uno due siamo a tre team ma si mettete dei like aspetta la clicks venite eeeh ok fermo fermo ok pronto 3 2 1 via no rifallo 3 2 1 via rifallo 3 2 1 via vai entra cambia squadra non ho capito loro sono di livello eh si di livello è di tipo 190 sì sono pc o no no loro ps4 ok ps4 sì ma che cosa le prime rovi che dimmi vedere è di livello sono quelli 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 competitive oh oh ok 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 una terra gg oh vai bravo ragazzi sei vista te no ma è vero muro del tuo oh no oh dietro oh io mi sono entrato attento 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 fatti il pacciolino però oh oddio oh oh jump scare oh eh sì lo so 2 più 2 4 eh sì viaggio dopo ci si è tutto tranquillo stai tranquillo stai tranquillo stai tranquillo stai tranquillo non so che c'è abbiamo detto è lo so 2 2 2 più 2 4 2 ma che è bella oh da me mamma mia uh mamma mia si mi hai fatto cadere si ho fatto 30 bianco mi hai fatto cadere con calma va bene va bene ci sta ci sta fa caldo o bianchissimo io mi sto curando a me c'è uno ok una terra vai bianco un altro morto bravo 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 ok gg gg ma il bello è che la live sta solo a 50 minuti a me sembrava stato un botte di minuti ancora 50 minuti penso molto di più questo è un'ora e mezza 40 non stanno quando quando 100 certo 10 ok bravo vai bravo si ma il bello è che siamo Deadpool contro le skin oscure sembriamo due team che devono competere i soldi come dopo la world gg la world gg la world gg 40 blu ma mamma mia 40 blu cavolo ma mi ha devastato mi scusi signore mi scusi signore poi di giverlo oh Going to켜 si 3 a 3 and Scusi signore che sono la are la madonna stiamo ascoltato ma siamo insciutato ma io sto lagando invece sai a 30 benissimo piatto effetto mi regalo ma che bello la gare vedete ragazzi io ho una connessione di me quindi boh quindi queste si infatti questa la vita amico scusa ma non è bianco ma dai sì a un tizio ho fatto due volte 30 per ucciderlo 30 stavi switch fatto 3 30 google r1 con il suo po cattivo a centro un po cattivo raga oh 100 beh a terra ho detto quello a 150 ma io bravo un altro colpo un altro colpo un altro colpo bravo ma lei tanto vai finisci bravo scusate ma non esistono bravo perdonata grado Stammi mordendo il microfono Sono in 3 yarder mod Hai capito? Scusa Mi shotta Oh Poggerz Oh Poggerz Oddio Ok una terra lol Mamma mia questo tizio dove L'ho spuntato E vabbè Che ti devo dire? Ok Peccato che io sono stato shotto così malamente A caso Va bene va bene Eh siamo scarsi Non ci possiamo fare niente Oh 190 Uno Oh in sotto Una terra 80 Oh one shot one shot Cri 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 Allora facciamo così Voi Oh vai 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 eccolo Sta la Ah chi Ah cri Cri Cristiano Eh Eh Da qua sotto ti sta curando Lo so chi Attento Bravo Oddio ti è devastato? Ho evito Cristiano Cristiano Non può morire Non può morire Fa quante Non muovere non muovere non muovere E' l'ora di aprire la finestra Non so che significa adesso Ah beh io li farei vincere perché c'è altra gente ma... Boh, vediamo come va Cioè guardate sono un pro gamer Ah beh ma dai ma mi scioltano te Mamma mia Ma io sto... Ehi lo vado Ma lo vado Ma di dove hai scioltato? A uno gli ho fatto 190 e l'altro gli ho tolto lo scudo Non so te ma io non ho ancora mai fatto un 200 Oh mio dio in creative arriva in un nuovo livello 107 Sono un pro Oh mio mio 201 C'è un altro 40 Per favore se ce la vuoi fare stavolta No oh 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 Cri 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 Non farmi arrabbiare Ma guarda Vabbè Gigi per loro eh Gigi per loro Cristian Ah si Vabbè Vabbè Avete visto che siamo scatti? Vabbè Noi siamo freddi Eh lo so Eh lo so Vabbè tranquilli Vabbè dai C'è c'è altra gente che dobbiamo far giocare Oh Bella Bella Vabbè 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 da we are Gigi Aspetta 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 non uscire ok ecco c'è parte allora ha detto se perdo vi regalo mille bucks no 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 sto tranquillo ti stai tranquillo ma comunque non so te ma io non ho ancora mai fatto io non ho ancora mai fatto un 200 sì lo so e vai fratto ma esci papi papi ok ah io avevo sentito papà ti ho mandato alla richiesta vai 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 ok noi non vogliamo vbac noi vogliamo solo fare due v2 eh ragazzi cosa è da pc e vabbè ci spaccheranno che sarà mai aspetta c'è il simbolo del pc però ha l'account bsm vabbè non fa niente che è entrato ma si aspetta tanto vai chat gioco 259 vai bella eh stai invitando il tuo amico si ok eh sai rosh eh aspetta un atto che finiamo questi cosa volete fare 10 round oppure 10 vittorie tanto non cambia tanto intanto facciamo 10 a 0 sì lo so ok ok 10 round 10 vittorie sempre 10 round sono giusto ok 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 Sì, lo so Cambiamo noi Cambiamo noi O cambiate voi È uguale, è uguale Cambiamo noi Ok Vai, hanno detto che cambiano loro il team Tu stai fermo Ok E qua però se non finisce 10-0 Io mi triggero No, ma finirà di sicuro 10-0 Eh? Ma Ok Sono sicuro Abbastanza sicuro Che finirà 10-0 Ah sì Attento Ah sì Insomma 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 Ma lo sapevo Oh Oh 191 Una terra Oh a discusa non mi uccide no 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 a 40 direttamente così va bene c'è già non li chiamo in più ci facciamo 40 eh oh niente e niente non è così non so niente vabbè gg e o si se la vissi eh se la vissi oh oh si oh si mi fanno male ah si ah si ah si ah si bella eh si lo so oh ah si 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 una teletrasporto vattene usare teletrasporto ufff teletrasporto porco mi mi ritengo satisfatto anche di vincerne una la moglie questi noi vavamo 10 round 10 vittorie da me c'è uno è incredibile l'ho vittato come ho fatto a missarlo 30 oh oh insomma insomma di un sfoghe insomma 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 la vedo brutta la vedo brutta popo vincere una ma guarda io penso che il vero vittivo si mette in non mi chiude giù il vero vittivo fa fare una kill ma io non ci sto a capire niente cioè se ti devo io ho tolto 100 ma lui mi ha scettato insomma andando vedi se c'è qualcun altro che vuole fare 2 v2 ecco perché ha detto se perde vi regalo 1000 vb ah ah ecco hai ragione infatti quando ho letto di te che il problema è ok 171 ok ma che che ok morto almeno uno dai che rimontammo dai che questa è nostra niente 10 a 0 e il compitino non l'avevamo fatto adesso possiamo pure morire felici ma gli hai fatto danno? si io ho fatto danno attento dietro mamma mia mi ha devastato sto dito è 120 no ma noi c'è io già dall'inizio del primo round avevo visto come stavanna avevo già capito un po' è qua però il 10 a 0 però è senso voglio dire il 10 a 0 non è arrivato quanto è avanti la situazione cambia eh oh Grigri gliedro ah no mi mette il piccone azzia 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 dai che questo è il nostro dai che avvinciamo oh inizia a gioca bene mi raccomando inizia a gioca bene magari certo ma loro mi hanno fatto esplodere mamma mia anzi una terra io l'ho scusa una vittoria lo cura lo cura anzi lo vuole cura no lo so no dai che l'hanno fatta azzia 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 mamma mia oh infatti se stavamo due ne ha un campioniere che queria tanto eh infatti ma io ho avuto una vittoria già reputo una vittoria questa e la reputo una vittoria anche soltanto che faccio una di vita incredibile mi ha messato con un colpo non l'avrei mai detto mi ha messato con un solo colpo non l'avrei mai detto non l'avrei mai detto va bene va bene è il 10 a 0 però non è arrivato il 10 a 0 è questo io davvero la rendo non sto scherzando arco schifo ho fatto un cento da chi se ne ho accorto di tutto oh che stro e insomma ma l'importante è che non è arrivato il 10 a 0 io l'ho avuto una vittoria come work io l'ho avuto una vittoria oh ma che cazzo la ghanistan anzi no anzi no pure peggio oh lo metto a terra che cazzo di voi bravi i miei 1000 vbucks sono al sicuro si si sta tranquillo no ma io già dal primo rando avevo sapito era un po' strano che qualcuno scommetteva mamma ok fra mi fa e mi abbiamo perso un altro rando mi hanno fatto 190 vabbè 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 tutti e bravi applausi vabbè raga ciao ciao mi metti chat parti ok il prossimo esatto vuoi giocare con noi ipergabbo ipergabbo eh no ipergabbo non c'è eh non c'è più no eh dici il tuo id esatto eh no si ok lo faccio sì sì il tuo id il tuo id il tuo il nome su forno eh sì va bene eh sì id id esatto wow yes id ok esatto wow va bene penso che sei inglese ok ma che inglese cioè non lo so anche se nel titolo abbiamo messo Ita Ita oh vabbè itas itas comunque siamo in live da due ore davvero noi stiamo in chat gruppo ah in chat gruppo ok va bene eh aspetta entro da loro ok ah entri da loro mi stanno invitando eh mi stanno invitando va bene entri noi stiamo ok vai allora 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 dove è Giulia ti ho invitato non mi ha invitato eh sì che ti è invitato non mi ha invitato non mi è arrivata ah mi unisco io sto tranquillo ok eh si arriva si arriva a dieci eh aspetta metti chat no lo so in chat gruppo a quanto si arriva si arriva eh a dieci win a dieci vittorie cambiamo noi squadra io questa la perdiamo capito questa la perdiamo si arriva se arriva a dieci win facciamo cioè cambiamo le squadre esatto eh la floss Che io a quei tempi Nemmeno sapevo che esisteva il pass Io giocavo a caso Scegliete voi la mappa? Non so che scelgono la mappa Non lo so La mappa la scegliete voi o? Sì la sta scegliendo Ok questa qua A dieci Cambiamo noi squadra Sì sì Aspetta pronto? Sì 3, 2, 1 Via Ah la Clix Ah la Clix Cambiamo noi squadra No aspetta 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 No no aspetta Is God deve andare squadra 1 Ok E a zì a zì Qui la perdiamo Si arriva a dieci E poi passiamo con i prossimi Qui la perdiamo lo sai Vai Uno one shot Certo S'è stata morto 1 Oh one shot One shot One shot Cri 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 Vai 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 Uccidi Uccidi Spamma 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 Vai la spamma Spamma Continua a spamma 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 Stai ricaricando le tre Vai 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 Dietro Decide Mamma mia L'ho schivata Non so come ho fatto E vabbè Se ha 100 di quanto di vita Ho 200 addirittura Lancia Lancia gli un 200 Ma sai che stanno vedendo la live Ma Cri No Non ci credo Se ti facci Ok Vabbè Il primo GG Se ne capi Come gioco Vai vai Cri Builda 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 Oh 100 Blu Vai 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 Oh Mi ha fatto 200 Dai che quello Mi ha shottato Pure a te Vero Fatto Due 200 di fila Electric Alex Cristiano Abbiate 2v2 Eee Aspettate un attio Che Che finiamo Questi Scrivitorie Scrivitorie Quindi Mettete like Che Ah no Se Oh Agri Non so Cosa 110 Uno Eccolo Da me Terra Oh 2 di vita 40 Blu 40 Blu Laserato Morto Quasi Oh Mi ha pigliato A me Al posto Di te Non ci Credo Non ci Credo No Attenza A me Non ci Credo Che stro Oh Let's go Comunque Aspettate un attio Che arriviamo A 10 Seria 10 Win Intanto Scriveteci Il vostro ID Aspettate un attimo Aspettate un attimo Aspettate un attimo Che qui moriamo E mi hanno sciolto Solo per dirti Mi hanno sciolto Cento Blu Oh Sotto Cento Cento E' qua Oh Detto Da qualche parte Non so dove Eh Io ho fatto Cento Però mi ha Shottato Oh 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 Lo so Mamma mia Non ci provate Nemmeno Piccone Ma lui Ha passato Tutto Una domanda Allora Oh Eccolo Uno Ma l'hai fatto Oh oh Dai Mi ha sciuttato Vabbè ma mi sciuttano Ma che cosa Mi sta allaggando Avrete Mi sta allaggando No muore No muore Uno di vita Mi sta allaggando Che palle Che palle Sì Vai 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 Ecco Ti vuon tappano Oh 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 Acatacatomado Maior Oh My god Ok Vai 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 Tetto Vai, vai Mamma mia Vai, uno distrutto 71 71 Eh, c'è questo che è quasi morto Ti farà del pesce Oh 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 Ma non mi builda 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 È largo Che connessione No, se mi want up Mamma mia Mamma mia Distrutto No, come Distrutto a quello Ci ha ucciso Ci ha ucciso tutti e due Però Sì Basta Ma io adesso Boh Ma stanno da me Non vale Mamma mia Ma lo deve Oh E mi ha sciottato Oh 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 Di vita Questo Ma non ci credo Io ho lasciato andare Perché penso che Sì Ma i prossimi Sì Secondo me pure Sì E niente Sì 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 Ma quando ti arrivano Eh non lo so Sì Sì Ti parevo che mi mangia un tremila titan Ninghe Oh non muore Sono vergognato Eh ok Cosa Eh bro sì Sì Eh Aspetta però Prima Non sono gli ultimi C'è c'è Ancora Zaio Che deve Coso Quindi non sono gli ultimi No Questi qua non sono gli ultimi Vabbè Ovvero Oh no Noi dobbiamo finire Con questo Dove Bah Perché stiamo continuando Prima che stiamo a fare Se ne sembrava dei tuoi Vai vai Sta andato sopra Questo Qua giù Vai Eh ok Vai 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 Oh 200 mi ha fatto Ok Vabbè dai vai Oh raga Vabbè Sì è vero Vabbè noi Adesso passiamo i prossimi Noi passiamo i prossimi Adesso in realtà non so neanche Vai li va li va Allora i prossimi Sono Allora i prossimi Sono Zairox No No Elettrica Lo so Intendo Aspetta un attimo Che prima facciamo Questi altri E poi Facciamo voi Zairox Vabbè io vado Ma che mi tocca Vai abbandona sta Elettrica Alex Ok vieni 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 Però Ci devi mandare Sì sì Electric Sì 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 Prima te Ah eccola eccola Ehm vai il tuo ID Electric Alex Il tuo se si chiama Vabbè sì dai Allora Ehm Le E A con la C L'R Intanto Zairox 98 Intanto fai delle partite Qualche coppia Electric Trattino basso Ah Il mio ID Ti devo dire Alex X Che dio Ok Electric Alex Te lo Scrivo il tuo ID Perché ormai Fai solo te Cosa Aspetta un attimo Che No no Scrivo io Tram No Scrivo io Sulla chat Perfetto Eh no Alex Ti invitiamo noi Almeno Almeno Vai Ehm Ho invitato Electric Alex Ok Ora entro Ora entro Ok Zerox Zerox 98 Scrivito Te Lo Croce Maro Aristide Maro Maro Aristide Boh Ehm Vai Ah ecco è entrato Vai Vai in chat Gioco Penso che è entrato Ma la stai a mettere Un'altra Ecco Vai vai Ok Bella Ah lo stai a chat party Ok ok Ehm Quanti round facciamo Scrivi in chat Sì ok Quanto Quanti round facciamo Francesco Pio Aspetta un attimo C'è primo Zerox Allora facciamo una cosa Chi è l'ultimo Francesco Pio Ok Scrivo in chat Francesco Pio iscriviti e metti like Ah chi arriva prima a 10 Electric Ok va bene Va bene Aspetta Il suo compagno Sono Ora metto pronto È già messo pronto Ehm Volete fare la Clicksbox C'è lì Prima a 10 Anzi Dopo le 2 v2 Facciamo le pubbliche Sì Poi cerchiamo Vediamo Sì Ah ok Ok Buona fortuna Electric Ok vai Chiudi la live Perché Ah sì sì No Ho detto Chiudi la live No Dopo Pio Chiudi la live No No Facciamo C'è Poi Poi continuiamo la live Chi vuole fare Con noi Una partita Una partita Ma oddio Guarda sono uguali Guarda sono uguali Aspetta Aspetta Pure te ce l'hai Aspetta Pure io Vabbè entra Cambiamo Cambiamo squadra Noi Ok Pronto Oddio Ma mi hai visto Non ci sono Non ci sono voluto Andare perché Se no sarei sconato da loro Non sarebbe Non sarebbe Bravo Mamma mia Anno a chi Anno a chi Non è devastato Vero Voglio Ma che cazzo Succede Guarda uno scendino Vabbè ci sono Vedi qua Aspetta Spacca quello Chiudi va Ma che cosa Stai facendo Mi è partito Un colpo Sì Un frano Oh Ah gridi Ho bloccato Scusa Questa partita Si deve Movimento Un po' Sennò Veramente Qua non la finiamo Mai Ok Vieni Non morire E niente Mi ha distrutto Volere Ecco Un altro Ah Oh GG 10 vittorie Huawei G22 Pro Qua Dietro Prende il muro Vedi qua Ma vai qua Eccolo Attento Attento Ok Ok, una terra, oh! Eh, come di queste... Ma quasi testa, dai. Ma tu te la un po' devi andare. No, no, no. Una terra. Bravo. Mamma mia, l'ho devastato, come ti? Ma questa è una cosa. Aspetta. Oh! Ma non so che a volte mi danno delle impressioni come se stanno comunque guardando la live. Eh... Fanno finta, chiudo la live. Oh! Ma te pare? Carmi, 2v2 boffa. E te guarda, mi dispiace, ma Francesco Pianunziata è l'ultimo che ci sarà, perché poi da quando andiamo a fare delle pubbliche, per favore. Poi andiamo a fare le pubbliche... Se volete, potete fare squad con noi, una partita. Una partita terza. No. Oh, 200, un altro. Oh, 190! Morti. Sì. Io sono entrato così aggressivo! Eeeh... Oh no, aspetta, c'era pure Pio, eh. Eh, lo so. Infatti è lui l'ultimo. Ah, ok, giusto. Perché tu, 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 tu che cosa ti capito? Nooo, niente. Eh, esatto, non hai capito a lui. Esatto. Vai, ho unitato, un shotissimo. Terra? Qua sotto. Oh, qua sotto, qua sotto, qui. Vai, vai, vai. No, no, se no mi finisce. Spam, 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 spam. Spam! Fuck! Bravo. Spam. Mi faccio schifo, però. Vai, vai, vai. Bravo. Ma stai, stai dando calcio al muro. Ragazzi, poi alle 8 chi vuole stare in live, noi stiamo in live per guardare... Quell'evento. Poi se volete venite. Fee, 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 fee. Aspetta. Oh, ok. Ma che ce l'hai fatta entrare? Sei andato abusiva? C'è il ferro, sì. Aspetta, ma... Fai cosìììì. No, Kree. Ah, vai. Ma Kree! Ma che cazzo fa? Oh, io, 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 da me! Eh, vabbè, arrivato a caso Bravo, bravo Eh, un po' di fece, Gigi Eh, sed Sed, sed, per te Sh, hdbd Mh, bocchetto per video, ormai, nell'ultimo Eh, Francesco Domizio Che sta, che sta, prima No, che sta dopo Xerox Xerox è il prossimo E poi dopo Sono finiti i pox Facciamo squad Cioè, se qualcuno vuole venire Ben, venga Ma fai così, vai, vai Mentrevi abusivo Così, vai Mi ho fatto 100 Ma alle, eh, bro Io ho fatto 100, lui mi ha scontato Vai, così abusivo Sono in due, eh, attento Sì, tranquillo Non lo sapevo, carino Ce la posso fare io Dove è finito? Stai restando? Bravo Sorry, 200 Eppure lui mi ha fatto 200 Guarda, siamo in vantaggio Niente male Stranamente È tanto, come l'abbiamo detto Tagliersi abusivo Te voglio Sì, abusivo, sì Abusivo come la caritas Ok È la Madonna Ok Oh Lo spam supreme Vabbè gg gg dai Con quanti colpi mi ha preso Vabbè dai gg Guardalo che subito chiudono Vieni vieni Vai 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 Una terra Certo Easy 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 5 a 4 Altri 5 round e poi tocca No ma che altri 5 round E se 5 round E vabbè se li vinciamo scusa è giusto 5 vittorie Ormai per quanti box Sto partendo i conti No Fatti colpire Che sta affagando Mamma mia Fatti in 2 in 2 in 2 in 2 in 2 Non muore non muore non muore non muore 5 a 5 Ma non muore Non muore questo qua Mi ha spammato i colpi Oh mamma mia Oh mamma mia Ma no grig così Vai 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 Oh Ma faccio 30 30 30 in corpo 30 in corpo 32 di vita No ma c'era il muro editato Oh Che 6 a 5 6 a 5 Enzooma 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 Ah ah Game infinito Game infinito È combattuta questa Non è che è infinito No io Mamma mia 40 A terra 1 Ok 1 morto Vai vai entro Centro matazio Oh guarda Insieme Timing Ma te qui a che ora vai a mangiare? Boh Tipo mo durante il party reale Infatti guarda è po' d'arte Vabbè Oh che stro Mamma mia Un shot uno Ho appicconato Oh sono shot Oh da me Grandissimo Grandissimo Vediamo un attimo i commenti Allora Chi vuole fare due di domanda Della amicizia Fate vedere che non siete voto Allora c'è qualcuno prima di me Della amicizia Vabbè viste qua non leggete i commenti Chi vuole fare Allora ragazzi Francesco più annunziata è l'ultimo Ho messo anche il commento E quindi dopo di lui Dopo di lui faremo Delle pubbliche finchè iniziano le 8 Per l'evento in quartiere royale Ah ma questo Abusivo Abusivo Ok io sto con 11 di vita Adesso io sto piccolando da 9 e mezza Mi pare minecraft Minecraft WTF Eh stai soltanto piccolando E mi dispiace per te Finché non finisci i materiali Io non ho paura Se il giorno mi sta avveni Non lo so un crample di Oh finiti i materiali Mamma mia Puggers Lo so siamo dei bot Oh no Ogri Oh 180 a caso Vai 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 Krik Ma Eh eh L'ho capito Aaaaaah Allora Ancora Ancora così stai Tetto Kri Sì Da Detto Sta allargando un botto Ah 8-7 Combattuta combattuto la winnie prossimo xd che mi manda tante della ricetta amicizia aspetta un attimo mi ha shotato vabbè vai risciotto oh morì è uno morto non ci credo era solo il muro vabbè gg per loro gg per loro adesso passiamo con i prossimi passiamo con i prossimi che sono xd 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 accetta la richiesta ma guarda adesso tocca a un altro gruppo e poi dopo poi dopo c'è l'ultimo e poi dopo quindi allora vediamo più ci sei a marcolissia con te ok allora ok che io non c'è più non c'è abbandonato e allora xerox il suo compagno sono gli ultimi sicuro pure c'è perché patrizio totaro facciamo facciamo quelli oppure no e ma c'è gente che è arrivata molto prima quindi è infatti e niente ragazzi manchetto gioco siete come sempre ma no eccoli bella facciamo 10 round oppure 10 win cambiamo noi squadra ok ok le ho detto che facciamo 10 win guarda guarda a ziii e lo so e lo so lo so vieni qua vieni qua vieni qua cricrı cricrı 3 2 1 2 vabbè aspetta no Senti che ho vai squadra 2 What? Mi hai visto? Vai pure a me che fa box fight Devo fare squad C'è la gang del botto Gang Hai stato fantastico quando mi hai lanciato Ma io non mi hanno lanciato Allora mi hanno lanciato A caso? Si mi giuro mi hanno preso e mi hanno lanciato Ma come ho fatto e mi sa quel colpo No Si Ok a terra 1 Vai 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 prendete morta Morto Timing Timing Si Ma come buzi Mi sto a scoppiare Ah pure a me 180 mamma mia è devastato Cosa cosa succede? Aspetta un attimo Chi è? Non lo so Sono tutti da me Tutte e due Oh Mamma mia Mamma mia Immagini Calma Oh Da me Morto Allora Allora Io ho pensato una cosa Si potrebbe fare anche una live in box pack 2 di 2 la prossima settimana Quindi chi non gioca oggi Se vuole O tornare la prossima settimana Esatto Ora si deve scrivere dal canale Se ci volete sfondare Mamma mia il 30 Siamo 5 a 0 Non è possibile Ma buona Ah ma è andato a loro È sed Oh Ma che è? Che stanno a giocare? Stanno a giocare un altro gioco No Vado Fai 2v2 ora Fai 2v2 Allora ragazzi Chi non gioca oggi? Allora loro sono gli ultimi Non la prossima settimana Ma forse pure domani O domani O la prossima settimana Comunque Vabbè Se volete sapere dovete Iscrivervi 181 200 vai Comunque Entro una settimana Si ripara una live Nelle box pack Info Chi non ha giocato oggi Oppure domani Ah proprio da solo Ovviamente Non possono giocare tutti quanti insieme Cioè non possono giocare tutti quanti insieme Marco Ress è da solo Sì ma se vuole Hanno abbandonato GG per loro Vabbè ragazzi Questa live Finisce qua Mi starto subito un'altra Se volete fare le squad con noi Va bene? No Si a sto punto A sto punto Si fa la prossima volta Eh si Va bene Stasera siamo in live Su cosa? Su parti reale Bella Sì